ciao ragazzi allora oggi si va a seminare il frumento adesso dobbiamo prenderlo con la pala con le punte insomma e caricarlo sul carro è giusto? vai un po' più in là? leggermente più in là? si un poco! boh vai avanti adesso boh avanti ancora alza boh adesso deve uscire dal cappannone e caricarla sul quel carro là e dopo lo portiamo vicino al campo ehi! au au alta un po' boh indietro cosa fai? vedo che la spassi cosa cambia? se non qui il sacchetto dopo quella porcheria lì sapete va dentro anche quella? la semini? allora siccome adesso siamo appena andati a portare i cassoni delle olive in frantoio prima dobbiamo pulire bene il carro per sicurezza insomma perché il padre ha paura che se si rompe un sacchetto poi per raccoglierlo insomma è meglio che ci sia pulito ecco in modo da raccogliere solo i semi allora come l'anno scorso vorrà un terzista a seminare il frumento perché appunto noi non abbiamo la seminatrice abbiamo solamente quella del mais non quella del frumento che viene verso le una e mezza adesso è mezzogiorno e quarto allora quest'anno diversamente dall'anno scorso in questo campo qui che appunto c'era il frumento l'anno scorso semineremo il mais mentre nel campo diciamo che sta di là del monte dove ho realizzato anche il video appunto della trebbiatura del mais quest'anno invece andiamo a seminare il frumento appunto è lì che oggi pomeriggio andremo a seminare buon qua pulito tutto dai carica un giro tre buono perfetto caricati li porti su con il frutetto quante quintali sono? 10,5 10,5 5 per piano da 30 kg 5,10, 15, 20, 25, 30, 35, il quintale è mezzo ogni piano, 3, 6, 9, 10 e mezzo, va bene dai, allora qua è tutto pronto per dopo, come vi dicevo adesso è mezzogiorno e 17, alle 1 e mezza arriva il terzista e quindi adesso si va a mangiare. Ok ragazzi, allora abbiamo finito di mangiare, mi son preso su anche il drone così posso fare anche qualche ripresa aerea diversamente dall'anno scorso, ho preso su un sacco per raccogliere i rifiuti che ci sono vicino alla strada visto che comunque siamo lì che aspettiamo e i guanti per raccoglierli appunto. Adesso non perdiamo altro tempo e partiamo con la pe. Questo qui sulla destra adesso quando arriviamo è il campo in cui seminiamo. Eccolo qua, questo è il campo. Siamo arrivati. Allora dovete sapere che qui è un posto vicino alla strada e quindi molte volte succede che buttano per terra cartacee, cose di plastica eccetera. E allora adesso raccogliamo quello che troviamo per terra. Adesso passa di qua. Ecco vedete, pian pianino semina tutto il campo. Probabilmente ci sarà da fare fino circa alle 4-5 del pomeriggio. Dopo vediamo. Mascherine. Allora fra un po' devo andare a caricare la storia su Instagram perché esce il video alle 2. Se non lo sapete appunto ogni martedì e venerdì esce un video alle 2 del pomeriggio su questo canale e appunto io carico la storia su Instagram per ricordarlo a chi mi segue su Instagram. Quindi tra qualche minuto devo andare a prendere il cellulare che ce l'ho nell'app. Allora mentre il padre va avanti a raccogliere lì, io come vi dicevo vado a caricare la storia su Instagram. Poi torno qua con un altro sacchetto, finiamo di raccogliere quello che resta e dopo faccio qualche volo colorone. Qua è bello farlo perché c'è tutto piano. Qui poi vedete appunto ci sono i sacconi con le sementi, grano tenero che è quello che si usa per fare il pane. E appunto dobbiamo dare una mano al terzista a caricarli. Adesso sono le 59, vedete più o meno come le faccio le storie. Out now, YouTube e questa è la copertina del video che esce oggi, quella del Kramer, che l'abbiamo portato qua a fare i balloni di paglia. Se non avete visto il video andate a dare un'occhiata se volete. Ok, storia caricata, se volete andate a seguirmi anche su Instagram. Adesso non perdiamo altro tempo. Lo sto raggiungendo il padre che dovrebbe essere giù di là. Sei già andato di là? Ho fatto un tocchetto lì vicino al vigneto, dopo. Allora in pratica dopo un tozzo di tempo la seminatrice si svuota appunto perché finiscono i semi e quindi noi dobbiamo dargli una mano a riempirla. Perché sono abbastanza pesanti i sacchetti, ecco. Ha già fatto un bel po' di volte il giro del campo e quindi è quasi ora di riempire la seminatrice. Intanto prepariamo aperto qualche sacchetto. Dopo facciamo prima a caricarlo. Guardate come sono le sementi. Questo va. Questi sono le sementi del frumento. Ok, siamo pronti a ricaricare. Ok, è riempita tutta. Adesso si riparte. Bene dai, allora adesso mentre il padre va avanti a raccogliere un po' di carte, allora questa strada qua l'abbiamo già fatta. Quella che va in giù e l'ho fatta prima io, una parte, bisogna farla dall'altra. E dopo c'è una parte di là ma la faremo dopo. Intanto io appunto faccio le riprese con il drone dall'alto della seminatrice. Dai, adesso prendiamo il drone e portiamo. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Ok, il volo con il drone è fatto. Adesso facciamolo atterrare. Olè, ce l'ho fatta. Ok, è riempito. E riparte. Allora, abbiamo riempito un'altra volta la seminatrice. Adesso vado di là a raccogliere ancora qualche cartaccia. Ok, adesso sono da una parte di qua del campo. Qua non so se l'avevate visto, abbiamo registrato il video quando abbiamo messo giù i getti. Ok, raccolte. Torniamo di là. Buon, l'ho finito. Ma questi qua abbastano adesso. Bene, cartacea buttate via. L'ultimo sacco ho messo dentro. L'ultimo sacchetto mancava. No, l'ultimo sacchetto. Sì, l'ultimo secchio. Non è un esistitio. Bisogna lasciare un po' stretto. Va bene dai ragazzi. Allora, anche per questo episodio è tutto. Là sta finendo il trattore di fare l'ultimo pezzettino appunto che mancava. Spero che anche questo video vi sia piaciuto. In caso positivo fatemelo sapere zappando un like e iscrivendovi al canale. E noi ci vediamo alla prossima puntata. Ciao!